Dimesso con una prognosi di dieci giorni, migliorano le condizioni di Roberto Pozzoli, l'agente della polizia locale dell'Alto Lario, accoltellato ad una mano da un marocchino irregolare di 44 anni fermato durante un controllo antidroga a colico. L'uomo, che in tasca aveva migliaia di euro, probabile provento di spaccio, al momento è stato identificato e denunciato per lesioni, resistenza pubblico ufficiale e possesso di arma da taglio. In fuga i due complici, solo l'ultimo episodio di una lunga serie, avvenuto martedì pomeriggio nel boschetto della droga a colico. L'attività della polizia locale dell'Alto Lario, a tutela della sicurezza e della legalità, continua senza sosta, con il pieno sostegno e l'apprezzamento delle amministrazioni locali, scrivono i sindaci di colico Dervio e Dorio. Dura la presa di posizione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini. Ringrazio le forze dell'ordine per il lavoro di prevenzione che svolgono e per quello che hanno fatto in passato nel contrasto allo spaccio in Alto Lago. Ma è del tutto evidente che i risultati ottenuti fino ad oggi non siano più sufficienti, si è oltrepassato ogni limite. Le sue parole. Cosa deve succedere ancora, prima che ci sia una risposta definitiva da parte dello Stato? Ci vuole tolleranza zero nei confronti di questi spacciatori di morte? Oppure il rischio è che la gente esasperata comincerà a farsi giustizia da sola? Ho riferito quanto accaduto all'assessore regionale alla sicurezza, Romano Larussa. Mi farò personalmente portavoce delle richieste di aiuto dei sindaci. Sulla vicenda è intervenuto anche Massimo Coppia, segretario generale Will, FPL dell'Ario e Brianza. Chiediamo che la sicurezza per gli agenti della Polizia Locale sia attenzionata per evitare questi tristi epiloghi. Come segreteria mettiamo a disposizione i nostri uffici legali, se il collega avesse bisogno di qualsivoglia tutela. Esprimiamo preoccupazione per la sicurezza e la salute dei colleghi e della Polizia Locale e denunciamo ancora una volta la mancata riforma della Polizia Locale, ormai ferma dagli anni Ottanta. Chiediamo al Prefetto l'apertura di un tavolo sulla sicurezza territoriale.